vuoi poter regalarti la videocamera? no, già ce l'ho ed ecco l'amore di Danà Danà ma stai buendo? no, è buono a te lo sapete io la caffa mia non è rosa ahahahah ma non è molto beve? è molto? ma che cazzo? ma come cazzo è messo? la brucia, ci ha fatto 125 anni c'è anche mia moglie là come ha guadagnato sull'analisa dei quartieri chi è questa gnocca? chi è questa gnocca? non ti affamare la gnocca non tu che cosa tu fai? eh parola gnocca parola gnocca parola gnocca parola gnocca allora ma chi è che cazzo? no, è il principio è il principio è il principio il mio non è possibile ciao angiiiiiii ciao ciao franco andate dico a cuocca andate dico a cuocca saluti saluti ma che cazzo? è una bella tutta l'ultima 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 è una tutta l'ultima è una tutta l'ultima questo invece è un buon maglione bella dove vai? dove vai? a fumare? non ho però dopo ci è ciata ora muoviti che diciamo grande vino, sai cambare, vai ci sono andato a butticci